Monitorando dei movimenti sospetti di alcuni soggetti albenesi in questa località che si chiama Lignano, che è una località montuosa e quindi è molto nascosta, un sopralluogo effettuato venerdì ci ha consentito di accertare la presenza di cocaina sull'asfalto. I poliziotti della squadra mobile della questura di Arezzo hanno seguito, in questo caso, nel vero senso della parola, le tracce dello stupefacente e sono riusciti così a risalire ad un giovane spacciatore che adesso è finito in manette. Facendo un sopralluogo nella piazzola vicino al punto in cui si ha trovato lo stupefacente, è stata rinvenuta una busta con all'interno 24 involucri di cocaina pari quasi a 300 grammi. A quel punto i poliziotti si sono appostati per circa due giorni e la perseveranza alla fine ieri mattina è stata premiata. Quando effettivamente si è presentato questo ragazzo che è stato tratto in arresto a prelevare il quantitativo di stupefacente nascosto. Gli agenti hanno subito bloccato e perquisito il 19enne di origini albanesi, quindi la verifica è proseguita a casa in zona Saione. Nella soffitta è stato trovato altro stupefacente, 500 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, altra cocaina suddivisa in piccoli involucri e poi materiale utile per il confezionamento della droga. Il 19enne che è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Arezzo era in possesso anche di un biglietto aereo di sola andata per l'Albania, con partenza prevista proprio oggi. Spaventato sì da arresti operati nei giorni scorsi che riguardavano i suoi connazionali, uno dei quali proprio abitava con lui in via Mincio, e forse quindi era intenzionato a lasciare definitivamente il paese. Proseguono le indagini? Si proseguono per capire se ci sono altri soggetti coinvolti e quindi per capire se ci sono anche altre responsabilità.